Un caro saluto in particolare a Don Francesco Cristofaro che ha fatto un lungo viaggio dalla Calabria per la prima volta è arrivato in Trentino e quindi lo accogliamo insieme a lui con me come direttore di Vita Trentina il settimanale Dio Cesano che ben volentieri ha accolto l'invito di alcuni amici di Alessandro Dell'Ai e altri per questo appuntamento qui al Vigilianum al quale ha aderito ben volentieri anche la Diocesi con l'area testimonianza impegno sociale guidata da pochi giorni da Don Mauro Leonardelli era stato appena nominato quando gli abbiamo chiesto questa adesione e ben volentieri quindi questa prima visita in Trentino diventa per noi così anche un fatto diocesano di questo siamo molto contenti un fatto di chiesa siamo anche contenti che l'incontro di oggi sulle ragioni della speranza possa poi avere anche un'ulteriore diffusione attraverso la videoregistrazione che stiamo facendo e che metteremo a disposizione dei tanti amici delle tante persone che hanno trovato nelle parole negli scritti e nei video di Don Francesco dei motivi di speranza a me prendono solo due parole di presentazione poi abbiamo concordato un dialogo nel tentativo di approfondire i contenuti in particolare del suo ultimo libro la speranza che cerchi edito da bur che troverete poi disponibile all'uscita storie di santi e straordinarie vite comuni per ritrovare la luce sulla strada e in particolare appunto avremo anche modo di farlo conoscere a chi è venuto da Trento e per la prima volta attraverso le pagine di vita trentina ha saputo di questa sua esperienza che un po' riduttivamente abbiamo definito di prete youtuber non è uno youtuber a tempo pieno è un prete a tempo pieno e i suoi dati biografici sono presto detti che è calabrese lo abbiamo detto catanzaro classe 1979 sacerdote dal 2006 e parroco della parrocchia di santa maria assunta in simeri chicchi ha una licenza in teologia spirituale conseguita a roma presso la pontificia facoltà del teresiano per non fare gaff leggo dalla sua autobiografia che si trova nel sito sono nato con una presi spastica alle gambe una parola sconosciuta per due cuori semplici come quelli dei miei genitori casalinga la mamma e carpentiere il papà con un lavoro a cui tempi spesso precario sono guarito non nel fisico ma nel pensiero dice poi e soprattutto dice le mie gambe oggi tanto ogni tanto ancora oggi vacillano ma il mio cuore è fermo e la volontà forte poi ci spiegherà perché ha un'esperienza anche di collaborazioni televisive presso padre pie o tv con le trasmissioni nella fede della chiesa e fatti per il cielo una collaborazione con tv 2000 l'emittente della conferenza episcopale italiana con la trasmissione l'ora solare e poi anche con radio mater per la rubrica alla luce della fede sono titoli piuttosto evocativi bene allora don francesco cominciamo il nostro dialogo la prima volta in trentino come ha trovato la nostra terra tanto buonasera a tutti e grazie della vostra presenza e grazie perché so che venite anche da da altre parti e questo mi rende felice e cosa e come ho trovato intanto ho capito che c'è tanto amore verso la mia persona e questo mi ha mi ha commosso e mi ha reso molto felice poi questa mattina ho fatto un bellissimo tour perché abbiamo iniziato don mauro grazie a te per aver celebrato la messa alle otto quindi del presto poi grazie anche a degli amici che mi hanno fatto un po da cicerone ho visitato il duomo ho visitato santa maria assunta poi al santuario del pinè quindi è stata una bella una bella una bella una bella tappa quello che io ho capito che dal nord al sud senza distinzione siamo una grande famiglia no come spesso voi mi sentite definirvi perché siamo tanti siamo diversi perché ognuno di noi ha una ricchezza per quello che porta per quello per quello che è però alla fine lo spirito è uno ed è il signore che che ci mette sulla stessa strada e che ci fa arricchire gli uni con gli altri o quello che ho imparato da dalla mia esperienza qualcuno oggi mi ha detto che sto per diventare maggiorenne perché il 9 aprile del 2006 saranno 18 anni di sacerdozio quindi sto per diventare maggiorenne quello che ho imparato è che è importante esserci sapere esserci ed essere delicati esserci perché non è scontato no sapere esserci perché a volte facciamo anche danno con la nostra presenza perché una parola detta male un gesto interpretato male e soprattutto la delicatezza no quella che spesso manca nei nostri rapporti siamo invadenti non rispettiamo i tempi degli altri il giudizio prima di ogni cosa e quindi la delicatezza di poter essere accanto all'altro questa sua comunità lunga un po come tutta l'italia e si è costruita piano piano a partire dal periodo della pandemia ecco come è nata questa sperimentazione di youtube e dei social media per l'annuncio del vangelo intanto io avevo già un canale youtube perché avevo la necessità di caricarci su le trasmissioni che che facevano però tutto nasce da questo mio desiderio dalla perché io divido la mia vita in due parti quella triste da disperato ecco perché la speranza e quella felice da ex disperato perché io quando vado in giro e inizio a raccontare la mia storia mi definisco un ex disperato quando dopo la prima comunione per questo va raccontato bene dopo quando dopo la prima comunione io avverto che gesù nel mio cuore mi diceva che anche io sarei potuto diventare uno strumento nelle sue mani ma c'è un episodio molto concreto che segna proprio questa netta divisione allora quando io ho capito da ex disperato che potevo fare qualcosa ho detto ma qui io devo testimoniare la bellezza della vita la mia e quella degli altri e allora ho cominciato ad aprire penso che io sia stato il primo prete del sud in una diocesi difficile ad aprire un profilo facebook dove non era molto capito questa cosa qui no perché c'era giudizio da parte dei dei confratelli da perché era visto come una cosa demoniaca i social facebook poi questo profilo pian piano è diventato una pagina oggi conta 227 mila 27 mila followers poi è arrivata la pandemia che ci ha scioccato tutti primi noi anche noi sacerdoti pensate che la prima volta che io sono salito sull'altare quando ci hanno chiuso le chiese ho baciato la mensa fatto la genuflessione ho baciato la mensa ho lasciato gli occhi e ho detto ma dove sono i nostri fedeli dove sono i nostri bambini dove sono i nostri ragazzi eravamo soli io e la solitudine no ve lo ricordate tutti no ho detto ma se questa stessa sensazione che ho io ce l'hanno a casa gli altri ma come si sentiranno chi li aiuterà e allora siccome avevo già passato i mille iscritti perché per trasmettere su youtube deve avere mille iscritti ho cominciato con la coroncina la divina misericordia avevamo tutti bisogno di sperimentare gesù misericordioso no sembravamo dei puniti che cosa sta succedendo nella nostra vita è una punizione di dio questa allora questo messaggio non poteva passare faccio sperimentare la misericordia di dio è iniziata questa coroncina che arrivava anche a 3000 persone in diretta poi il rosario le messe le catechesi pensate che io per 20 giorni non sono uscito di casa e il vescovo mi diede la possibilità di celebrare nella mia stanzetta e c'era il mio papà e la mia mamma che anche qui storia di due genitori uno ateo bestemmiatore che si converte e l'altra arrabbiata con dio che si converte per la mia storia naturalmente e io avevo mamma e papà seduti su un sgabellino dietro la porta che rispondevano alla messa perché la stanzetta era così piccola che non c'era spazio per loro io l'altare e la mia sedia e poi al momento della comunione facevo la comunione anche a loro e finiva la messa è stata una cosa veramente bella e così è nata questo numero questo numero così alto penso che abbia posto anche qualche domanda fermarsi andare avanti ne ha parlato con il suo vescovo e qual è l'idea oggi di proseguire questa forma nata attorno alla preghiera e poi diventata vera e propria predicazione con i social allora adesso c'è stato un periodo che dico ma adesso che si fa perché mi ero posto un problema adesso può succedere che qualcuno magari si nasconde dietro la paura dell'uscire di casa e non va più in chiesa allora dico rallento un attimo no perché io non volevo che la gente non andasse in chiesa no però poi comincia ad arrivarmi la mail della figlia che mi scrive per la madre chi è la figlia della quasi centenaria qui dov'è eccola cioè voglio dire coraggiosissima alza la mano no ma coraggiosissima che ti segue su youtube è che oggi ha detto il rosario per me perché sapevo che dovevo venire qua capito allora arriva la figlia che mi scrive la mamma è ammalata di cancro per le sue difese immunitarie non può uscire fuori lei è un motivo di speranza allora dico non mi posso fermare poi arriva non lo so qualcun altro che è qui anche le suore no la seguiamo tutti i giorni ieri due sere fa mi ha chiamato una monaca di clausura ma ha detto una cosa che mi ha fatto sorridere però la condivido con voi e la mattina dopo che leggiamo la parola in refettorio seguiamo il video su youtube a posto di così a posto comunque è bello perché si crea una famiglia perché poi magari a volte faccio la telefonata a sorpresa per esempio il mese scorso una coppia ha festeggiato 70 anni di matrimonio tantissimi allora tutti i figli mi hanno scritto possiamo fare una sorpresa ai nostri genitori io pensavo che si limitassero a un video volevano un video mio allora praticamente hanno portato questi genitori al ristorante hanno messo uno schermo gigante come questo qui che vedete a un certo punto mi chiamano al cellulare e compaio io sullo schermo la mamma comincia a piangere praticamente si vede che gli cade il bouquet dalle mani dalle emozioni abbiamo fatto una preghiera poi abbiamo scambiato due chiacchiere erano felicissimi ma se uno può rendere felice una persona che sia giovane che sia anziana ma va bene così chiaro però ve lo devo dire che richiede sacrificio che richiede tempo anche perché io prima di tutto sono parroco e non posso abbandonare le mie pecorelle anche se vengo da una parrocchia di 270 anime non so se tu forse c'hai non sai ecco 270 anime sono pochissime però bussano hanno bisogno di tutto però richiede sacrificio però è ricompensato da tante cose se sono lungo nelle risposte ditemelo però entriamo allora nella sua vocazione specifica che è stata segnata fortemente dall'esperienza della malattia questa paresi spastica di cui abbiamo parlato ecco in che modo la fragilità per lei è diventata una ricchezza allora parto da questa premessa io sono nato con una paresi spastica lo ha detto lui e quindi cominciamo a come dire a posizionare ad ogni posto le cose mio padre si definiva ateo o credente a modo suo ma la chiesa non la frequentava ma non la frequentava in primis perché era l'unico a lavorare e lo stipendio a volte non arrivava a fine mese e io non mi vergogno mai di dire che a volte io e mio fratello vestivamo i panni e di mio cugino che stava meglio di noi e viceversa anche le nostre sorelle mio padre le bestemmiava noi sentivamo le bestemmie in casa mia madre era ho detto prima arrabbiata ma perché perché prima di me è nata una sorellina che è morta dopo un'ora un'ora dal parto poi sono nato io con una paresi spastica alle gambe e quindi la mia madre si rivolge al mio capo e gli dice ma facciamoci due conti io e te no? cosa ti abbiamo fatto di male? cosa vuoi da noi? dov'è che abbiamo sbagliato? e e quindi nasco io sud Italia povertà miseria e questa sentenza paresi spastica alle gambe le mamme non si arrendono mai di natura le mamme non si arrendono e allora comincia mia mamma a cercare la speranza ma in due modi differenti un modo giusto e un modo sbagliato intanto inizia con le visite mediche i viaggi della speranza dal sud a Bologna a Genova a Milano tanti soldini per carità bisogna dirlo no? però le parole dei medici erano sempre le stesse suo figlio non guarirà dovrà fare degli interventi di allungamento dei tendini io ne ho fatti due all'età rispettivamente di 18 e di 19 anni dovrà fare sempre fisioterapia la faccio tuttora sono 43 anni ma non guarirà mai e una mamma non si arrende a queste notizie no? non si arrende io non conosco mamme che non sono guerriere nella mia vita ho conosciuto mamme guerriere no? allora ecco che ci si rifugia la speranza sbagliata i maghi io li chiamo i falsi venditori di speranza perché al contrario dei medici i maghi dicevano a mia madre ma non si preoccupi signora suo figlio guarirà e tanti soldini pensate che un giorno mia madre dalla Calabria arriva fino in Puglia dove c'è questa donna all'ingresso di casa di questa donna c'è una cesta dove si potevano mettere le offerte per farvi per rendervi l'idea se tu ci mettevi dentro 10.000 lire ci parlavi 10 minuti mia mamma si è venduta loro di famiglia per sentirsi dire parole di speranza e allora io comincio a crescere però sono così arrabbiato uso questa parola per rendervi l'idea perché i bambini mi incontravano e guardandomi con disprezzo dicevano poverino e poi dicevano e tu non puoi venire a giocare con noi tu non puoi venire al fiume tu non puoi venire in bicicletta tu qua tu là e io andavo da mia madre gridando come un pazzo dicevo è colpa tua se io sono nato così è colpa tua non è giusto che cosa ho fatto di male e così mi chiudevo in camera e poi a un certo punto ecco chi mi ha dato il primo seme della speranza perché nella vita c'è sempre qualcuno che per la prima volta ci dà un piccolo semino no? la mia nonna materna la mia nonna materna aveva perso il marito dopo la seconda guerra mondiale le donne calabresi indossano il lutto fino alla morte non importa se tu lo porti per 20-30 anni ma non lo togli più e mia nonna usava anche il fazzoletto nero in testa il grembiule nero il gonnellone in nero le calze nere le scarpe nere tutto nero e neanche un filo di trucco perché era sia mai scandalo che una donna si truccasse se era di lutto allora a un certo punto la mia nonna sta seduta al cammino di casa nostra e la vedo muovere una catena il rosario io non sapevo neanche che si chiamasse rosario e muove queste labbra e dico nonna ma che cos'è questa catena che tu hai in mano? e che dici che muovi le labbra? ma io non ti capisco e lei fu la prima ad insegnarmi la preghiera dell'Ave Maria io non sapevo che cosa era questa preghiera lei ha messo nel mio cuoricino avevo sette anni la prima goccia di speranza e io ricordo che se anche non si andava in chiesa in casa mia guardate stamattina io lo dicevo ad Alessandro è successa una cosa simile mentre celebravamo la messa lì nella chiesa di San Pietro una bambina ma sarà stata della sua età di questa bimba qui si ferma davanti alla porta della chiesa e chiede alla madre che cosa si fa qui capite? perché i bambini se non sanno quello che avviene lo chiedono lei magari forse non c'era mai entrata in una chiesa questa bambina e anche io allora però si sa che nei nostri paesini ci sono le processioni allora noi abbiamo come padrona la Madonna del Carmelo e in casa c'era io porto l'abitino della Madonna guarda ecco qua da sempre c'era la Madonna del Carmelo e vado a rivistare trovo un'immaginetta perché le processioni si danno le immaginette i sacerdoti lasciano le immaginette vado a rubare un centrino a mia madre quello fatto all'uncinetto e faccio il mio primo altarino alla Madonna vado a raccogliere due papaveri rossi e tre margherite gialle e comincio a pregare l'Ave Maria ma la mia preghiera si trasforma notte e giorno in due sole parole sapete quali? voglio guarire sempre non c'era notte non c'era giorno non c'era volta che mi affacciassi a questo altarino che dicevo alla Madonna voglio guarire e una notte ho sognato anche di essere guarito pensavo che fosse la realtà ma poi mi sono svegliato sono sceso dal letto ho aperto l'anta dell'armadio dove c'è uno specchio ho fatto qualche passo ho capito che non ero guarito che la mia andatura spastica c'era ancora e lì fu la prima volta che chiamai la Madonna cattiva tu sei una mamma cattiva no? la stessa parola che disse mia madre tu sei cattiva però lei non era cattiva perché la Madonna ha fatto una cosa più bella e lui l'ha citato mi ha preso per mano e mi ha portato da Gesù il quale non ha guarito le mie gambe e poi vi dirò perché non la guarite ma ha guarito il mio cuore e il secondo seme lo ha messo nel mio cuore il parroco io amo i sacerdoti non è un difetto di fabbrica nel senso che amo i sacerdoti perché hanno una missione immensa grandissima perché se un sacerdote secondo il cuore di Dio è bellissimo allora io sempre non accompagnato dai miei genitori otto anni nove anni vado in chiesa perché mi hanno detto che devo ricevere la prima comunione e allora per prepararmi il catechismo però restavo a messa pensate che abito in un paesino di mille abitanti ovvero oggi ci sono i miei genitori io non abito più con loro e molti si fermavano per offrirmi un passaggio perché io spesso anche cadevo perdevo l'equilibrio ma io ero intelligente da bambino già poi l'ho sviluppata meglio ma perché io dicevo perché non volevo che umiliassero i miei genitori no ma guarda come sono insensibili ma che genitori sono lasciano questo bambino per strada il medico mi ha prescritto che devo fare lunghe passeggiate e io mi facevo un chilometro e mezzo due a piedi per andare in chiesa al ritorno accettavo sempre il passaggio perché al ritorno si poteva e un giorno il mio parroco mi vide arrivare io arrivavo in chiesa 40 minuti prima della messa voi quando arrivate? un secondo prima del segno di croce o un secondo dopo che inizia la messa io arrivavo 40 minuti prima e non c'era nessuno e io ero alla porta mi chiama e mi dice io mi guardo in giro come se ci fosse qualcuno non c'era nessuno c'era solo io e mi chiama e mi dice senti Francesco li vedi questi fogli i messalini i foglietti della messa dei canti perché il coro preparava i fogli dei canti non è come adesso che esce fuori la scritta canto numero 10 ci sono i fogli visto che tu arrivi prima mettili sui banchi così la gente che arriva li trova può pregare e cantare una cosa sciocca che cos'era? ma per me era il compito più importante che mi potesse dare un piccolo seme e da quella cosa lì è iniziato e concludo e poi lascio a lui la parola c'è un episodio che è stato spartiacque e intanto inizio a fare il ministrante ricevo la comunione poi cresco e divento anche catechista aiuto catechista catechista ma in tutti questi episodi io partecipavo anche delle catechesi e seduto fra i banchi quel giorno il brano è il cieco nato quindi chiedono a Gesù maestro chi ha peccato chi ha sbagliato perché lui nascesse così perché noi siamo convinti che quando ci succede qualcosa è una punizione di Dio e mica Dio sta con l'ufficile per punirci Dio non ragiona come gli uomini perché altrimenti saremmo sterminati tutti Dio insegna attraverso ciò che ci succede Dio ci vuole parlare ma non punire e Gesù che risponde nessuno ha peccato nessuno ha sbagliato è nato così perché attraverso di lui si manifestino le opere di Dio quella parola in quella chiesa stracolma di gente non era per nessuno era per me Gesù mi stava dicendo che io potevo essere strumento suo e da quel momento io non prego più per la guarigione fisica non faccio più una volta una preghiera per chiedere questa grazia mai più e da lì è cominciata a cambiare la mia vita quindi la seconda parte da ex disperato grazie su cui tu fai la domanda che io bevo sì notavo che anche in questo libro di cui parleremo dopo lei mette in evidenza alcune storie belle di speranza protagoniste sono spesso persone con disabilità in sedia a rotelle o carrozzine anche noi come settimanali ospitiamo ogni tre mesi un inserto di lunga vita che si intitola proprio questi miei fratelli e che ospita storie di persone malate con disabilità storie che danno speranza e non ultima quella di Don Enrico Pret che forse lei conosce un prete trentino passato Don Enrico mi ha chiamato esatto ci siamo conosciuti telefonicamente lo ricordiamo qui anzi aspetta la registrazione perfetto ecco quindi per dire una persona che conosciamo entrambi oppure la stessa Chiara M che c'è sempre molto vicina però ci sono anche molte situazioni nelle nostre case di persone ammalate di mamme di papà che non trovano quello che queste persone hanno trovato ecco la domanda è duplice che cosa possiamo fare come comunità per loro perché talvolta se queste persone si ritrovano ancora nella depressione o nella disperazione è anche perché non hanno trovato magari anche nelle nostre comunità ascolto e poi quali altri suggerimenti incoraggiamenti possiamo dare in generale naturalmente perché non c'è dubbio che queste forse le storie che raccontiamo sono ancora la minoranza purtroppo allora quando vado nelle scuole quando incontro i ragazzi tra l'altro venerdì faremo un convegno sulle malattie mentali quindi un'altra tematica importante e quando vado negli incontri così io dico sempre parto sempre da questo abituiamoci a due cose fondamentali l'uso del linguaggio e l'uso dello sguardo partiamo già da qui perché questo è importante l'uso del linguaggio e l'uso dello sguardo perché io ho dimenticato tante cose della mia storia del passato ma la parola poverino non l'ho mai dimenticata vedete tempo fa ho letto un libro ma di qualche anno fa forse dove nel 1400 stiamo parlando di tantissimi anni fa sapete come venivano definiti i disabili tra le tante parole me ne è colpita una inutiles inutili ora se tu dici o non lo dici apertamente o lo fai capire che una persona è inutile inutile stai dicendo che non serve alla società non serve a te non serve alla comunità non serve a nessuno e Papa Francesco parla dice un altro termine forte parla di scarto voi avete presente un bel cesto di mele qual è che togli dal cesto quella che marcia la scarti perché altrimenti contamina le altre ora dire a una persona che è uno scarto è la cosa più brutta che ci possa essere quindi abituiamoci a un corretto uso delle parole ma sentite ma non c'è bisogno neanche di fare non so come dire il termine forse magari da me si usa in un modo gli scemotti poverino ma che sei carino ma ma non serve parlare così non è mica un fantoccio che tu gli faccia gli occhi dolci ma molte volte non serve che si facciano gli occhi dolci bisogna guardare le persone in faccia così come sono no per esempio io perché mi disperavo perché la gente non mi guardava mai nel volto mi guardava dalla vita in giù mi guardava nel difetto fisico e io non sorridevo non ridevo perché se tu non mi guardi vuol dire che non ti serve il mio sorriso quindi uso del linguaggio e uso degli occhi questo e poi cerchiamo anche di integrare no? vedete il mio parroco diede una cosa semplicissima la diede io per esempio nella mia parrocchia ho una ragazza in carrozzina una ragazza adesso una signora no? pensate che prima del mio arrivo questa ragazza non ha mai fatto una gita parrocchiale mai c'ha 60 anni io sono arrivato 14 anni fa perché non ha fatto una gita parrocchiale perché nessuno ha pensato di chiamare l'autobus con la pedana eppure esistono gli autobus con la pedana è vero che la prima volta che ho cercato un autobus con la pedana in Calabria non esisteva un autobus ed è venuto dalla Puglia è vero però noi abbiamo messo qualche soldino in più la parrocchia ha messo dei soldini in più senza far pesare agli altri e per la prima volta questa ragazza è venuta a San Giovanni Rotondo con noi perché c'era la pedana capito? ma io non posso leggere le letture perché per arrivare a leggere le letture Lambone è alto io sono in carrozzina bene ma tu me li puoi scrivere tutte le settimane su un bel foglio gli appuntamenti della parrocchia per metterli in bacheca è una cosa piccola ma per lei è importante perché sa che tutte le settimane deve servire il parroco con questo foglio quindi possiamo fare in modo che anche gli altri si sentano si sentano importanti Don Enrico è in diretta Don Enrico Pret che è il parroco dell'Alta Val di Sole ciao Don Enrico allora ti facciamo un applauso non so da dove siamo in diretta però un applauso Don Enrico un applauso che vale anche con un augurio per la sua sono spento un applauso che vale anche con un augurio per la sua malattia la guarigione esatto e anche un'assicurazione di una di una preghiera ecco e veniamo allora a questo tema della speranza che cerchi abbiamo quattro capitoli che corrispondono a quattro realtà sulle quali forse potremmo soffermarci sulle quali però Don Cristoforo non fa teoria ma racconta storie la forza della preghiera il valore della gratitudine la luce nel sorriso e la forza dell'amore cominciamo dalla preghiera che è sempre un qualcosa che ci fa problema anche quando diciamo di credere talvolta non sappiamo se la nostra preghiera è soltanto una richiesta ad un bancomat come si diceva prima o addirittura una pretesa ecco che cos'è per lei la preghiera e intanto inquadriamo perché la preghiera è un libro dedicato alla speranza perché come dice Diego io non faccio teoria ma racconto otto storie in questo libro quattro sono di santi diciamo ma che è facile parli di santi vabbè sono santi ma i santi però ci sono diventati mi piace citare Bernadette Santa Bernadette che perché sto lavorando un libro Maria sulla Madonna Bernadette dice sarebbe bello che dei santi non si scrivessero soltanto le virtù ma anche i difetti e cosa hanno fatto per arrivare dove sono e poi quattro di gente comune di gente della della porta accanto e come trattare la speranza io ho preso quattro aspetti che secondo me sono amici della speranza perché questo libro nasce da una rubrica che abbiamo fatto all'ora solare con Paola Saluzzi quando abbiamo parlato dei nemici e degli amici della speranza il primo nemico della speranza è la disperazione no? perché quando ti succede qualcosa di brutto non che ti ferisci un dito eh stai pulendo stai pelando le patate e ti ferisci un dito non è quel motivo di disperazione stiamo parlando di cose grosse di cose importanti allora dici adesso che faccio? è come se avessi un muro davanti adesso che faccio? a chi mi rivolgo? dove vado? qual è la via di uscita? c'è una via di uscita? il Signore mi ha abbandonato? allora il primo aspetto che ci può aiutare è metterci in preghiera dice ma parli tu che per 15 anni hai chiesto di guarire e non sei guarito? la preghiera non è solo miracolo la preghiera è mettere il tuo cuore nel cuore di Dio nel cuore di Maria no? e il miracolo non è stato quello che io ho cercato è stato un altro perché adesso non scandalizzatevi se ve lo dico che io oggi ringrazio il Signore per il dono della disabilità perché a un certo punto quando il Signore mise nel mio cuore il desiderio della vocazione e io decisi di entrare in seminario subito l'ho mise alla prova il Signore quell'anno ero stato catechista e quindi c'erano le prime comunioni e io ero stato il catechista di quella classe e la chiesa gremita i bambini in festa è il momento di mettersi in fila per venire all'altare per ricevere per la prima volta a Gesù allora il sacerdote mi dice senti tu tieni il calice che io tengo l'apisside così mi aiuti voi sapete che in quel momento non siamo più davanti a pane e vino ma la nostra fede ci dice che siamo dinanzi a Cristo corpo e sangue di Cristo no? io sul gradino dell'altare perdo l'equilibrio e cado a terra però tengo così stretto il calice in mano che non cade nessuna goccia del sangue di Cristo ma si perde la mia speranza vedete Cristo è rimasto in piedi io sono caduto ma c'è un motivo che io non capì subito ma capì dopo però in quel momento io Maria come l'avevo chiamata? mamma cattiva a lui l'ho definito peggio malvagio tu sei malvagio perché mi chiami e poi mi umili così mi fai cadere a terra e sono andato lontano dalla chiesa per sei lunghi mesi io non ci andavo più ma non ci andavo più non andavo più a mesa non facevo più niente prima indossavo la croce dopo questo fatto indossavo un corno rosso pensate al mio cambiamento prima di questo fatto alle dieci e mezza di sera ero a letto dopo questo fatto facevo le cinque le sei del mattino uscivo mio padre era felicissimo finalmente si è tolto dalla testa questo desiderio pensate che mio padre io dovevo entrare in seminario il 2 ottobre fino all'1 ottobre mi ha detto in dialetto calabrese trovati una femmina e sposati trovati una donna e sposati e quindi facevo le cinque le sei a un certo punto il signore però mi ha afferrato perché vedo una scena bruttissima le ragazze 15 14 16 anni arrivavano al mare come me belle vestite andavano in pineta e riuscivano dalle pinete semi spogliate con abiti diversi da come arrivavano si cambiavano si truccavano di nero ha detto dentro di me ma ma il signore mi aveva chiamato per salvare questi ragazzi adesso io li vedo perdere non faccio nulla è una mattina di domenica torno a casa alle 5 e mezza alle 6 mi rinfresco e decido da solo di ritornare in chiesa mi sono detto adesso mi faranno l'applauso dopo 6 mesi ma che non gliene fregava niente a nessuno perché voi dovete sapere che se vai in chiesa ti criticano tu sei quella che vai in chiesa ma sei peggio di quelli che stanno fuori se non vai in chiesa non gliene frega niente a nessuno non avevo mai ricevuto in questi 6 mesi una telefonata dai miei catechisti non avevo mai ricevuto una telefonata dal maestro del coro dal parroco neanche meno arriva il parroco davanti a me io dico adesso mi saluta mi guarda con degli occhi che mi fulminano mi strappa il corno rosso mi ha detto in direttore ti siedi qua poi dopo la messa vieni di là per favore ma quel per favore era molto minaccioso tant'è che io ho pregato che quella messa non finisse mai perché avevo una paura matta ma mi ha fatto infatti un rimprovero bruttissimo ma ho capito e io ho capito anche perché ero caduto a terra adesso ve lo spiego perché io ero passato da uno che nessuno guardava a uno che si sentiva importante perché ho detto avete visto io sono quello lì che voi non salutavate che non facevate venire a giocare adesso il signore mi ha chiamato a diventare prete in pratica mi ero gonfiato mi ero insuperbito e il signore mi ha sgonfiato subito ecco Gesù mi ha fatto cadere a terra per sgonfiarmi perché mi ha detto io ti devo riempire io ti devo guidare e sapete dove sono stato ordinato sacerdote proprio lì le ordinazioni da noi avvengono in cazionale ma dappertutto non nel duomo ma io la mia ordinazione sono stato ordinato in quella parrocchia e lì proprio in quel punto dove sono caduto volontariamente ho scelto di prostrarmi a terra perché è lì che ho detto adesso signore la mia vita è tua per tornare alla preghiera la preghiera molte volte non ci ottiene ciò che chiediamo ma la preghiera è un balsamo che fa scendere nel cuore la pace che ci fa comprendere il mistero di Dio e soprattutto che ci fa capire che non siamo soli ecco una delle mie preghiere preferite è fatta di quattro parole Gesù confido in te questa è la mia preghiera preferita Gesù confido in te perché molte volte che sappiamo noi fuori sapete voi in questo momento che cosa sta succedendo siamo qua mica possiamo vedere che c'è fuori è così la nostra vita che sappiamo domani cosa succede Gesù confido in te ecco sempre su questo stiamo vivendo giornate particolari dopo l'attacco di sabato e sono giornate in cui come era successo anche lo scorso anno l'angoscia ti attanaglia perché senti in persone lontane ravvicinate di tuoi fratelli in difficoltà se non addirittura straziati come innocenti ecco come sente Don Francesco la preghiera per la pace ci sarà un momento anche nella nostra diocesi questa sera alle 20 e poi sicuramente sarà indetta a qualche altra occasione ecco è fondamentale anche io ho fatto diverse volte queste iniziative allora noi possiamo fare una scelta o sentirci estranei o sentirci fratelli o restare indifferenti o lasciarci prendere dall'amore allora se io sono un estraneo a voi quello che vi accade vi accade non mi colpisce ma se io vi sento parte di me di un'unica figlia e di un'unica famiglia sotto lo stesso cielo figli dello stesso Dio fratelli in Gesù allora chiaramente devo soffrire con chi soffre piangere con chi piange gioire con chi gioisce e devo pensare che io in qualsiasi momento potrei essere nella stessa condizione del mio fratello che egli ma voi ci provate a pensare pensate bambini di quell'età che anziché giocare devono piangere pensate bambini di quella età che hanno diritto di andare a scuola ma si devono nascondere nei rifugi è facile dire vanno via si mettono su barconi io ormai mi sono abituato a non dire più niente a non giudicare più neanche una sola cosa perché noi non sappiamo le storie e sono vere tante cose però pensate ad un anziano che sta per finire i suoi giorni e invece deve essere salvato da qualcuno che ha pensato che oggi deve mettere su giù una bomba ma quella scena lì può venire anche qui siamo in pace in questo momento ma chi lo dice che una bomba non può cadere qui perché un pazzo ha deciso che una bomba deve cadere qui e allora ecco la preghiera signore liberaci dal male deve essere una cosa che parte dal nostro cuore sto scrivendo un libro su Maria sempre storie di conversione o di guarigioni mariane sulle più grandi apparizioni e quando adesso sto parlando di Međugorje e la Madonna ma sia a Međugorje che a Fatima chiede proprio il ritorno alla preghiera alla preghiera per la pace noi dobbiamo pregare 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 e Maria dice lì pace 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 e ancora pace che siamo su questo tema mariano anticipiamo un po' una domanda che era quella dell'autentica devozione mariana anche su Međugorje la Chiesa ha avuto un atteggiamento molto prudente ecco per lei le apparuzioni di Međugorje e meno quelle su cui c'è stata anche un pronunciamento che cosa rappresentano che cosa dicono perché le cita allora io come ha detto Pocanzi in questo libro che dovrà uscire parlo dei delle più grandi dei più grandi fenomeni mariani tra cui questo devo dire che non sono mai stato a Međugorje quello che mi ha colpito di questo chiamo tra virgolette fenomeno ma non vuole essere una parola brutta è l'entusiasmo di chi si reca in quei luoghi e io ho visto davvero vite cambiare vite trasformarsi ma come lì come in tante altre manifestazioni mariane la Chiesa ha fatto questa lunga indagine ed è arrivata a questa questa duplice conclusione ha riammesso di nuovo i pellegrinaggi che erano stati bloccati e poi ha stabilito che le prime sette apparizioni quindi dei primi sette giorni sono autentiche poi è una produzione di messaggi che va dal 1981 fino ai giorni nostri quindi sono migliaia centinaia di migliaia questi messaggi e questi sono ancora sotto l'effetto dello studio la madonna è apparsa non è apparsa lì è vera non è vera lì questo non sta a me dirlo io in questo libro racconto una storia di un ragazzo che vive una situazione particolare di vita e di salute che viveva anche una vita di immoralità un ragazzo che va lì e cambia la sua vita e da un bestemmiatore di Maria oggi organizza i pellegrinaggi e porta i giovani alla madonna questo è a proposito di queste storie ne possiamo raccontare una fra le altre se no svegliamo troppo del libro che si di questo che lei ha trovato particolarmente significativa poi volevo anche lasciare qualche domanda a Don Mauro perché non è che le domande dei laici valgono di più di quelle dei preti però una storia di laico mi premeva restiamo su Maria restiamo su Maria vi racconto una storia del libro che c'entra la madonna di Lord allora la storia è quella di Assunta Assunta è una ragazza tetraplegica vive in carrozzina non ha l'uso della parola o meglio si esprime con gesti con parole mezze dette che devo dire la verità io facevo difficoltà quando sono andato in casa loro a capire il papà e la mamma la capivano benissimo allora Assunta nasce a Desio siamo a Milano però i genitori sono calabresi sono immigrati prima che nascesse la mamma ha difficoltà e quindi va la prima volta in ospedale ma i medici dicono no signore ancora presto se ne vado a casa ma poi di nuovo si risente male ritorna in ospedale e le fanno il parto cesario subito la bambina viene presa e messa in incubatrice e il papà racconta che sembrava la sua bambina un riccio perché gli hanno messo talmente tanti aghi in testa che questa bambina sembrava come un riccio ma la mamma non la vede per i primi tre giorni non gliela fanno vedere chi la vedeva era soltanto lui la notte del parto la mamma fa un sogno e che cosa sogna sogna di essere in Calabria nel suo paese natale e sogna una processione della madonna e a un certo punto la madonna le viene incontro le mette una mano sulla spalla e le indica una strada lunga 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 buia 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 ma lei non capisce questo sogno però dice che tutte le volte che scendeva in Calabria andava in giro per le chiese del suo paese per vedere se riconoscesse questa statua ma non la vedeva mai ma quando si sveglia dal sonno dice lei al marito salvatore ma l'assunta sta bene perché ha fatto questo sogno si era un paurita dice l'assunta sta bene e salvatore quasi sviene perché deve dire alla moglie che c'è qualcosa che non va e le dice la verità insomma anche lei molto arrabbiata con Dio non voleva più sentire parlare di preti e cominciano comunque la bambina poi viene dimessa vanno a casa cominciano la fisioterapia le visite mediche i viaggi della speranza un giorno per farla breve bussa alla porta di casa loro il parroco questo sacerdote arriva tutto con lei con il clergyman bussa lei lo accoglie con una rabbia e con una freddezza che dice al parroco che cosa vuole dalla nostra famiglia vada via non abbiamo bisogno dei preti vada via ma signora sa sono il parroco saputo che la sua bambina non sta bene se avete bisogno di qualcosa non abbiamo bisogno ma gridando non abbiamo bisogno di nulla poi forse si accorge che sarà troppo cattivella e dice anzi mi mandi domani due ragazze a tenere compagnia mia figlia con una chitarra che possano cantare e suonare con lei e il parroco poveretto se ne va e lì domani din don arrivano due ragazze con due chitarre mandate dal parroco lei ci rimane perché pensava non ci pensava più a questa storia le descrive come due angeli bellissime che entrano in casa cantano con la bimba con la ragazzina e la ragazzina addirittura dice mamma si solleva sulla sedia perché era felicissima le ragazze che erano volontarie dell'unità quando vanno via dicono senta signora noi l'altro giovedì andremo all'ordo se voi venite con noi noi provvederemo a tutto lei non dovrà fare nulla lei dice no non vengo non vengo poi la sera ne parla col marito e decidono di andare ma dice lei al marito se viene pure il prete io non ci vado cioè sto prete lui stava simpatico per niente e allora arrivano all'urdo si sistemano in un albergo e arriva il momento di andare alla grotta mi dice la signora vittoria che alla grotta succede qualcosa che lei cambierà la vita per sempre intanto vede una marea di ammalati e dice don francesco io in quei giorni che sono stata lì non ho fatto mai una volta una preghiera per mia figlia ho pregato per quelli che vedevo perché erano molto peggio di mia figlia ma la cosa più bella è quando sono andato sotto la grotta ho alzato gli occhi e ho riconosciuto la madonna che avevo sognato e che non avevo visto mai da nessuna parte ecco la madonna di Lourdes aveva catturato il suo cuore gli aveva mostrato questa strada lunga difficile lei dice siamo tornati a casa la prima di essere cambiata sono stata io ho cominciato a frequentare la chiesa a far pace col ton e per 28 anni e questo è il miracolo più grande per 28 anni la mamma e la figlia sono state catechiste catechiste capite? una che è arrabbiata con Dio e poi insegna invece le cose di Dio e Assunta non ha l'uso del linguaggio il cardinale Martini le regalò un casco con un punteruolo e lei attraverso il pc fa dei disegni bellissimi e scrive dei messaggi profondissimi e quando l'ultima volta sono andato via da casa loro mi sono girato mentre ero sull'uscio della porta e le ho chiesto Assunta ma per te che colore ha la speranza e lei si solleva sulla sedia e questa parola l'ho capita e dice il cielo per Assunta il colore della speranza è il cielo ma il cielo inteso il Signore Dio grazie Don Francisco vi assicuro che nel libro trovate moltiplicati questi questi racconti e mi sembra di aver percepito anche nella scrittura non tanto la preoccupazione del giornalista come capita talvolta a noi cioè la bella scrittura l'episodio sensazionale quanto piuttosto la partecipazione del pastore del fratello sacerdote immagino che siano come già ha confermato nati dei rapporti anche di conoscenza duraturi nel tempo ecco Don Mauro Leonardelli per chi non ci ha sentito prima il nostro delegato Vescovile per quest'area della testimonianza impegno sociale che raccoglie varie realtà che vanno appunto dagli ammalati i pellegrinaggi il mondo del lavoro e le missioni e tanto altro e mi piace sentire da lui cosa ha provocato questo ascolto e se magari voleva rilanciare qualche domanda poi sicuramente raccogliamo anche qualche intervento dalla sala grazie Don Mauro innanzitutto grazie a tutti grazie a Don Francesco a Diego a tutti voi a chi ci segue un saluto particolare a Don Enrico che ringrazio per la sua testimonianza lui anche e tanti altri sacerdoti vengono in mente due Padre Tullio Pastorelli Padre Arcadio Sicher ma tanti altri sacerdoti che stanno veramente dando testimonianza nella malattia veramente di di fede e mentre Don Francesco parlava mi veniva in mente che quasi quasi mi verrebbe voglia di cambiare il titolo del suo libro perché il titolo dice la speranza che cerchi visto anche l'ultima affermazione che facevi che il colore della speranza al cielo mi viene quasi da pensare la speranza che ti cerca che è la speranza che cerca te a volte la difficoltà forse anche nella società nel mondo che noi viviamo adesso è di lasciarsi trovare da questa speranza perché magari la cerchiamo o troviamo tanto altro allora non so volevo chiederti se questa mia lettura poteva essere una lettura veritiera assolutamente sì ma perché la speranza mi ha cercato perché Gesù mi ha cercato e si è servito di come dicevo prima di gocce di speranza che hanno preso volti storie situazioni quindi la speranza ci cerca noi pensiamo anche io l'ho pensato che Dio mi avesse abbandonato che a Dio non piacevo e invece lui ha lavorato il mio cuore ma non solo il mio perché Don Mauro quando io ero prostrato a terra tu sai il gesto il significato di quel gesto lì si cambia vita in quel momento io chiesi due grazie al Signore amare la vita la mia e quella degli altri e poi ho detto senti ma sai che c'è è un po' indecente detto così avere due genitori che mi combattono vedi un po' che devi fare convertili tu beh beh senti mi pare che mi abbia ascoltato no perché intanto mio padre non bestemmia più da tantissimi anni non si definisce più ateo da tantissimo tempo frequenta tutte le domeniche la messa domenicale appunto e guardate un po' cosa fa Maria la mamma quella bella cioè mio papà adesso da uno che ce l'aveva sempre in bocca ma per motivi sbagliati adesso mette la sua macchina che ha un fiorino per la legna la utilizza per portare la Madonna in processione per le vie del paese voglio dire solo lui fa queste cose qui e anche la mia mamma la mia mamma adesso anche lei non è più arrabbiata lei ogni tanto è preoccupata come le mamme si preoccupano le mamme dice ma adesso lui che si è preso sto treno per andare a Trento è felicissima perché voglio dire sa che qui adesso faremo un selfie così con mamma vedi quanta gente c'era perché mia mamma si è iscritta su Instagram per seguirmi si 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 vedi sono belle le mamme gli anziani perché io quando parlo con i ragazzi della mia parrocchia dico ma studiate ragazzi imparate una lingua non state sempre lì e faccio l'esempio degli anziani no che mia mamma mica sapeva che cos'era Whatsapp adesso usa Whatsapp ma mica sapeva che cos'era quest'altra cosa qui ma ogni tanto mi fa ma come devo fare per andare e io mi metto lì e glielo spiego ma e perché è bello no sapere e lei ogni tanto è preoccupata perché diceva adesso no lui che deve salire e scendere dal treno chissà se lo aiuta non chissà se quando sono entrato in seminario lei comunque prese la patente aveva la quinta elementare però ha preso la patente perché io ho dovuto fare tanta fisioterapia poi c'erano le scuole perché dice a mio figlio lo devo accompagnare io a scuola e mi accompagnava tutte le mattine a scuola e mi veniva a riprendere e quando sono entrato in seminario salì al quarto piano contro il parere di tutti la lei non gliene fregava nulla perché è dovuta venire in camera per vedere se il bagno era in regola se la doccia fosse comoda e dopo che mi ha sistemato il letto se n'è andata queste sono le mamme no che sono belle 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 e posso dire un'ultima cosa certo io ancora oggi ho la grazia di avere mamma e papà sabato 14 mio papà fa il compleanno festeggia 72 anni gli ho organizzato una festa sorpresa non lo sa non glielo dite allora io ho detto soltanto che sabato le 18 celebro la messa che lui deve venire e poi praticamente lì in chiesa arriveranno le mie sorelle mio fratello con sette nipoti quindi c'era un po' di chiasso poi andremo al ristorante io ho fatto la musica io ho fatto i fuochi d'artificio insomma sarà un bel compleanno speriamo che vada tutto che nessuno glielo dica prima però appare che ancora regge io quasi tutti i giorni vado a pranzo a casa loro perché faccio fisioterapia che è vicino a casa a loro e poi vado a pranzo ne approfitto no e quindi io mi siedo qua il papà si siede qua la mia mamma si siede qua e li osservo anche se non parliamo li osservo no e vedo che magari mio papà oggi non lo so lo vedo preoccupato c'ha una ruga più evidente la mia mamma magari quel giorno non è andata alla parrucchiera e si capisce che il capello fuori posto sapete mi viene un po' di di emozione perché dico un giorno gli dissi a mia madre tu sei una bugiardina eh perché mi hai detto lei ma come bugiarda che cosa ho fatto sì perché tu mi hai detto un giorno che non mi avresti mai abbandonato e non è vero le mamme no tu sai ti accorgi che un giorno che passa è un giorno in meno che ce l'hai no e che un giorno li perderemo no magari qualcuno di voi ha già persi no ecco per tutte queste parole per dirvi valorizziamo il tempo che abbiamo a disposizione amiamoli adesso le persone che stanno al nostro fianco sia che siano i genitori sia che siano i figli sia che siano i mariti sia che siano le mogli qui racconto una storia di un imprenditore che non aveva mai tempo per nulla alla fine un giorno cade dalle scale perché scendeva alle scale di fretta col telefono in mano e un giorno incontra e incontra nell'ospedale un bambino che aveva un braccio fasciato e una bendana in testa perché aveva un tumore e e il bambino dice a lui ma perché non sorridi sei sempre così arrabbiato sorridi che la vita è bella e lui si commosse perché quelle parole venivano da bambino che poteva morire da un momento all'altro quindi valorizziamo i tempi che abbiamo prendiamoci il tempo non corriamo più siamo troppo di fretta sediamoci stiamo insieme ecco oggi vi siete presi un'ora non per venire da me ma prestare con noi tutti insieme è questo che conta grazie anche io non vorrei non vorrei non vorrei davvero mettere fretta però penso che sia bello magari alla fine che Don Francesco possa anche firmare il libro per chi lo vorrà prendere c'è il tempo però per raccogliere due o tre domande che magari sono più interessanti delle mie quindi giro volentieri io rispondo da qua prova sì 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 così ci aiutate magari a far emergere qualche altro aspetto grazie signora avanti qua e vi presentate il nome io sono Laura la seguo sempre con mio marito e scriviamo a lei una cosa le volevo chiedere giustamente non è Dio non è Gesù che ci mandano ci manda le disgrazie insomma quello che succede no? quindi non esiste la giustizia retributiva per cui chi fa il bene è il bene e chi fa il male io a questo proposito mi sono innamorata della storia di Giobbe proprio innamorata persa però non è semplice alle volte convincere o quantomeno parlare con le persone e dire questo perché purtroppo tantissimi ancora oggi dicono ah ma il signore perché mi ha mandato questo a me risulta difficile dire che non è lui non sono capace chiedo a lei che cosa posso dire quando succedono queste cose abbiamo delle persone che conosciamo molto vicine a noi che stanno vivendo un periodo veramente terribile e loro dicono ma perché il signore ci manda ancora questo che già ne avevamo abbastanza io mi sento veramente impotente non so cosa dire cioè dico preghiamo però è poco forse tu pensa che dici preghiamo io non dico niente proprio no nel senso che nel senso che noi dobbiamo imparare a rispettare come dire i ritmi di tutti no? io posso dire adesso che nel mio cammino di fede ho raggiunto un traguardo la persona che ho di fronte magari ancora non è lì dove sono arrivato io e quindi ha bisogno di più tempo ha bisogno di un aiuto concreto guarda tu pensa a questo io l'altro giorno l'1 ottobre sono stato a Colle Valenza dove c'era il convegno nazionale dei laici dell'amore misericordioso dove ho presentato il libro e si presenta una donna con un sorriso bellissimo ma giovane e la prima cosa che mi viene da guardare è un cuore che lei aveva qui è una foto sai quando muore qualcuno che si fa quei ricordi no? ma quel qualcuno era molto più giovane di lei era il figlio morto a 26 anni e mi dice lei ha visto che io guardavo quel cuore mentre dice non è l'unico che è morto sai io mi fermo e il mese scorso è morto anche il mio marito con un tumore però sono qui con la mia fede a volte fragile a volte più forte a camminare quella donna aveva raggiunto un traguardo ma magari la persona che era accanto ancora aveva bisogno allora io ho imparato nella mia vita e l'ho imparato a mie spese ad esserci ad esserci bene vi ricordate le parole iniziali e ad esserci con delicatezza perché dico a mie spese perché quando arrivai nella mia parrocchia ecco adesso ne farò di cose belle io sempre quando c'è la tentazione di gonfiarsi un incidente un ragazzo di 18 anni con la moto va a sbattere al muro e muore lì a terra ma sai dove è morto? di fronte casa sua la madre la prima scena che vede aprendo la porta è questo figlio a terra senza vita che cosa dici tu a una donna? che cosa dici ad una madre? io non ho detto nulla non ci sono parole e anche qui vi ricordate cosa aveva detto l'uso del linguaggio vedevo lì venire perché io poi non mi sono mosso da casa loro questo sì e vedevo venire gli altri che dire coraggio il signore si è preso l'angelo più bello ma st'angelo non poteva stare a casa mia coraggio il signore si è preso il fiore più bello del giardino ma sto fiore non me lo potevo coltivare io nel mio sì lo so che sono parole che a volte non sappiamo cosa dire quindi cerchiamo in modo nostro di incoraggiare è meglio non dirle e io però sono stato lì sai cosa è successo nella vita di questo io ho fatto anche io un gesto sono stato ho preso una foto di questo ragazzo sono andato dal gioielliere ho fatto anche io questo cuore e io lo regalei alla madre infatti tutte le volte perché lei prima non veniva ammessa adesso tutte le volte che viene ammessa mi cade l'occhio su quel cuore che lei tiene sempre qui e porta il suo figlio però ecco molte volte non possiamo dire nulla ma esserci ed esserci con delicatezza questo sì e io quando posso quando posso quando mi rendo conto di poterlo fare chiedo alla persona di offrire quella sofferenza che lei con quella sofferenza è un po' più vicina alla croce di me che non ho quella sofferenza e quindi di offrirla quella sofferenza e di sentirsi poco poco privilegiata perché con quella sofferenza può consolare il cuore di Gesù e convertire le anime grazie io mi sono stupito e addolorato perché questo incontro fra cristiani non è incominciato cristianamente con una preghiera una benedizione siamo abituati a tutto ci ha messo il nuotatore al posto di Cristo perché hanno tolto la croce nelle nostre chiese noi non diciamo niente stiamo zitti tacciamo siamo vergognosi preghiamo poco e difendiamo la nostra religione sempre meno ci hanno dato la comunione durante gli anni del virus con le pinzette da francobollo e chi si ribellava il prete lo cacciava dalla chiesa ma dove siamo arrivati io mi chiedo che lei dia la benedizione a tutti quanti noi siamo cristiani o speriamo di diventarli mi scuso se abbiamo fatto arrabbiare figurarsi non si no no non l'ha fatto arrabbiare non si deve neanche scusare se posso rispondo io noi non ci scandalizziamo e non ci arrabbiamo perché ognuno può parlare se posso Don Cristofano non per toglierlo dall'imbarazzo io non sono l'imbarazzo rispondo io visto che sono l'organizzatore ma noi abbiamo organizzato questo incontro come un settimanale in un luogo che è della chiesa trentina ma che si chiama Vigilianum sì 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 ma ecco però siccome avevo io il coordinamento allora noi pensiamo che che magari in questa chiesa in questa in questa sala ci sono anche persone che non sono cristiane e quindi ci sarebbe sembrato che cominciare con una preghiera non essendo un momento liturgico ma solo un momento di testimonianza chiamiamola culturale sociale e personale non fosse d'obbligo come sempre succede fare una preghiera comunque rispettiamo il suo punto di vista sicuramente ecco questo è anche il motivo per cui in altri incontri culturali di questo tipo non iniziamo con la preghiera però il suo intervento ci richiama quello che il Vescovo ci ha detto nell'ultimo incontro che abbiamo ripreso subito a Trentina per chi l'ha letto che i nostri incontri pastorali dovrebbero sempre cominciare come si chiama lei di preghiera e di annuncio come si chiama come si chiama lei Enrico buonasera io abitualmente faccio gli incontri subito dopo la celebrazione della messa perché quasi di solito di solito io questi incontri di presentazione li faccio al termine della messa quindi più preghiera di quella questa è una sala dove c'è una conferenza dove ci sono altre persone quindi io faccio quello che mi viene detto ma non bisogna scandalizzarsi perché magari si giudica ma senza poi sapere neanche niente lei ha detto che non conosce la mia storia e sono venuto qui a raccontare la mia storia mica a fare il conferenziere è una testimonianza di vita le conferenze sono altre c'è un'altra domanda? vorrei dire semplicemente questo qui siamo molte persone giovani più avanti con l'età però dico che non abbiamo pregato la mamma celeste non abbiamo detto un padre nostro però penso che in questo momento il fatto di stare insieme di condividere queste testimonianze di sofferenza di grande amore di grande devozione sia stato comunque un pregare insieme un pregare univoco e ringrazio questo momento questa testimonianza perché anch'io ho avuto un tumore quindi sono stata diciamo amata dalla mamma celeste e con l'amore appunto della mia famiglia ma anche con l'aiuto nella preghiera ecco io spero ogni giorno del fatto che molti ragazzi possano capire e trovare ma ce ne sono tanti di belli che nella preghiera si trova veramente la forza le risposte di tante sofferenze di tanti perché magari che ci si domanda perché magari proprio a me però uno lo capisce nel cammino e soprattutto appunto la preghiera e l'accostamento anche alla comunione al corpo di Cristo è un momento veramente importante e io dico che la ringrazio per queste testimonianze per questo momento ringraziamo lei del coraggio anche di esprimerle abbiamo due domande le raccogliamo e poi chiudiamo grazie Don Francesco sono Raimonda sono albanese italo-albanese adesso perché sono 25 anni che sono in Italia e per caso io ho incontrato te nelle video nei social e ecco come dicevi prima mi faceva senso dicevo di venerdì siamo 1500 persone che preghiamo e allo stesso momento e quella è stata la cosa più bella poi vedevo 2000 3000 è stato bellissimo e la mia non è una domanda è un ringraziamento sei un dono di Dio e praticamente ho fatto conoscere una signora anziana te l'avevo raccontato a Torino però ci tengo a dirlo e lei era con Alzheimer e io gli facevo avevi fatto tra tante cose belle un video un regalo per voi tante canzoni di chiesa e io a lei per distrarla gli mettevo questo video tutte le canzoni e una signora con la demenza che sa a memoria tutte le tue canzoni e questa è una cosa bellissima ti ringrazio e benvenuto in Trentino e ti auguro ogni bene abbiamo l'ultimo l'ultimo intervento della signora Donatella così poi tutti i anni potete avvicinare ecco io sono Donatella volevo dire questo conosciuto Don Francesco tramite Youtube e mi ha sempre colpito fin dall'inizio la sua umiltà devo dire questo perché l'ho vissuta e il suo essere uomo di Dio perché io veramente credo profondamente che il sacerdote deve essere prima di essere per gli altri deve essere uomo di Dio cioè deve avere un rapporto verticale importante e lui lo vive si capisce che lo vive lo si sente attraverso quello che dice su Youtube e per cui lo ringrazio tanto perché veramente fa del bene fa del bene a me e fa del bene a tantissima gente penso penso Don Mauro che anche noi aggiungiamo alle parole della signora Donatella anche il nostro grazie per questo viaggio per questa presenza Trento speriamo che non sia l'unica tra l'altro Trento la chiesa trentina e la chiesa calabrese sono legate anche dalla figura di Monsignor Giancarlo Maria Bregantini che ha lavorato molto nella Locride e quindi davvero l'invito è a tornare e a coltivare questi rapporti e grazie davvero della testimonianza a lei la conclusione io prova grazie a tutti davvero di cuore per essere stati qui grazie a chi ha organizzato e chi ha reso possibile portate anche i miei saluti a Monsignor Lauro e il ringraziamento continuiamo a volerci bene a ricordarci nella preghiera a sostenerci nella preghiera noi siamo mi piace concludere così siamo un pezzettino di cielo sulla terra perché noi portiamo nel nostro cuore nella nostra vita l'immagine di Cristo allora se ci ricordiamo tutti i giorni di essere questo pezzettino di cielo vivremo sicuramente meglio e saremo cielo per qualcuno non a caso portiamo un nome che è importantissimo cristiani perché dobbiamo essere immagine di Cristo nel mondo grazie allora il libro è disponibile all'uscita per chi vuole firmarlo o avvicinare Don Francesco prego grazie a tutti e buona serata grazie 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 a febbraio Grazie.